E carissime amiche e amici benvenuti sul canale, ci sono state delle evoluzioni in questi giorni nel caso di Alice Neri e quello che emerge soprattutto, quello che è emerso nella giornata di ieri è che c'è stato ancora di più questo scontro di famiglia direi fra Nicolás e insomma e il resto della famiglia originaria, un Nicolás che dice basta gettare il fango su di me e grazie a me che adesso mia figlia è felice ed è serena. Questo da che cosa nasce? Nasce soprattutto da un articolo che è comparso ieri sul resto del carlino in cui la signora Patrizia diceva delle cose effettivamente molto pesanti nei confronti di Nicolás e dice sostanzialmente questo, prendo atto con infinito dolore come il marito di Alice e la sua difesa e la sua difesa stiano agendo nello stesso modo e con le stesse intenzioni del principale indagato Muhammad Galul e del suo avvocato Ghini. Cosa posso mai pensare nel vedere un marito che con il suo modo di agire sia dentro le aule con i suoi avvocati e consulenti sia con le dichiarazioni che ha rilasciato, prende posizione a favore di chi è accusato di aver ucciso sua moglie? Beh, credo, volendo fare un piccolo inciso, che prendere posizione a favore dell'indagato non credo, non credo perché, perlomeno a quello che risulti, c'è sempre stata solo la richiesta di una verità a 360 gradi, cioè di allargare le indagini, quindi credo che ci sia un po' di confusione su questo punto qua. Però la signora Patrizia continua dicendo non sta a me rispondere, penso parlino la logica e le tante parole spese in questo momento dal mio genero Nicolas e dai suoi difensori. Lo sa, ad esempio, che lui ha tolto tutte le fotografie di Alice dalla loro casa in cui vive ancora con la bambina? Io sono seriamente preoccupato per la mia nipotina e di come potrà ricordare la sua mamma e di cosa potrà pensare delle posizioni che suo padre sta prendendo. Ora, un altro inciso che voglio fare. Io credo che sia qualcosa di veramente esagerato questo perché le posizioni di Nicolas a me sembrano posizioni che ti conducono alla ricerca della verità. non alla difesa di qualcuno. Ed è davvero triste pensare, triste pensare ad una bambina che magari quando vede la nonna può sentire parlare male del papà. È una situazione veramente delicata. Poi la signora Patrizia continua dicendo sulla ispezione alla macchina circa l'ispezione alla macchina ed al ritrovamento di quel circuito ritiene che non sia attribuibile. Dice durante l'ispezione sulla macchina non è stato trovato alcun telefono e quindi anche di questa informazione qualcuno dovrebbe domandare scusa. Ora, questo fatto del cellulare, io credo che nessuno abbia parlato del ritrovamento del cellulare. È il ritrovamento di qualcosa che può ricondurre al cellulare. E di questo, di questo circuito elettronico, bisogna soltanto fare ringraziamenti, ecco, soprattutto alla dottoressa Katia Sastori che, diciamo, ha avuto questa competenza e questa abilità. e certamente poi daremo atto anche della replica della dottoressa Sastori. Comunque, la signora Patrizia poi continua ancora con, diciamo, un'accusa a Nicolás dicendo La sua difesa ha chiesto se sui capelli di Alice ci fossero tracce di ben tredici sostanze stupefacenti così lasciando credere che mia figlia fosse una drogata. Ovviamente gli esiti sono stati negativi nonostante lo sforzo di mio genero di postare lui stesso in tribunale i capelli di mia figlia. Cosa deve pensare una mamma? Ho visto che, diciamo, i tre giudici, no? I di esame, eccetera, eccetera, la Cassazione hanno deciso per gravi indizi a carico di Galul quindi fino a che punto io e Matteo dovremmo sopportare tutto questo. Noi abbiamo fiduci, insomma, nella procura e nei carabinieri che hanno preso chi ha massacrato mia figlia. Ecco, questa conclusione io capisco per carità la delicatezza del momento ma è una conclusione effettivamente un po' grave perché ringraziare il lavoro della procura e dei carabinieri ci sta sempre e comunque perché rappresentano, insomma, la giustizia in Italia ma dire che hanno preso chi ha massacrato mia figlia effettivamente questo non ci sta perché chi si è in carcere si è in carcere perché è ritenuto che ci siano degli indizi gravi di colpevolezza poi per carità ognuno valuta a modo suo ma io ricordo che in Italia ci sono ci sono tre gradi di giudizio prima di essere dichiarato colpevole e quindi dire che i carabinieri hanno preso chi ha massacrato mia figlia credo proprio di no anzi, io sono convinto che non sia così però non si può affermare si doveva dire che potrebbe aver massacrato mia figlia comunque da queste dichiarazioni poi ci sono state le risposte che hanno acquito, insomma, questo contrasto familiare che adesso è diventato una vera e propria guerra una vera e propria spaccatura incredibile e quindi i rapporti fra Sucher e Nicolas sono, credo, rotti definitivamente anche perché anche perché, diciamo, sembra che che un po' di tempo fa la signora Patrizia disse pure a Nicolas che lei sarebbe stata la tutrice legale della bambina in quanto Nicolas risultava indagato e quindi doveva essere lei a prendere le decisioni quindi immaginate un po' quale tensione poi per fortuna non è più indagato va bene ma quale tensione ci può essere stata quindi poi riguardo la scheda elettronica ritrovata io posso dire che è comunque un reperto molto importante io l'ho vista e credo che possa essere riconducibile a un cellulare ma ciò è stato dichiarato anche dal consulente ingegnere Paolo Reale che anche lui indica chiaramente che quella ritrovata è una scheda elettronica compatibile con un cellulare detto ciò poi vediamo che a queste affermazioni insomma a queste polemiche c'è stata la replica della dottoressa Sartori che giustamente è stata chiamata indirettamente in ballo perché è stata messa in dubbio un po' questa cosa questa professionalità e allora lei cosa afferma afferma sinteticamente questo non entrando dice nel merito di alcune dichiarazioni che riguardano la sfera familiare del signor Negrini del quale ho potuto apprezzare per l'ennesima volta la compostezza e l'educazione di fronte all'attacco pubblico rivolto alla sua persona come marito prima e come padre poi posso solo dire però che nessuno di noi seppur criticati per la nostra linea di pensiero semmai ha rovato il diritto di screditare l'operato o il pensiero di altre parti sono altresì rimasta molto sorpresa delle dichiarazioni di lasciata la stampa circa il ritrovamento del circuito stampato all'interno dell'auto della vittima volto per motivi a me incomprensibili a sconfessare ciò che invece di fatto è avvenuto cioè il ritrovamento dopo otto mesi di un circuito stampato insieme a quello che per forme dimensioni esse imbianze appare essere una porta slot di una sim come specificato solo gli accertamenti tecnici potranno stabilire la provenienza di quanto ritrovato sono sicuramente quelli ritrovati due reperti suggestivi non solo perché giacevano a due centimetri di distanza l'uno dall'altro non solo perché non hanno cablaggi che si ricollegano al circuito elettrico dell'autovettura ma perché vengono trovati in prossimità di dove la vittima probabilmente aveva appoggiato la sua borsa sui sedili posteriori quindi dove durante il primo sopralluogo vennero ritrovate diverse monete oggetti personali della signora Neri e lo smart watch non funzionante da un mese e che come ci ha conformato il marito la vittima teneva all'interno della propria borsa ciò che è avvenuto l'altro giorno è avvenuto durante il sopralluogo della dottoressa Cattaneo nel pieno rispetto del contraddittorio in quanto erano presenti tutte le parti era presente appunto la dottoressa Cattaneo e i suoi collaboratori erano presenti i militari del nucleo investigativo nonché alcuni di loro che fecero il primo sopralluogo ovviamente erano presenti i consulenti di parte e i rispettivi legali tutti quanti compresi coloro che dichiarano che non è stato ripestato nessun circuito elettronico hanno partecipato e visto in diretta la fase del ritrovamento e la fase della repertazione per quanto riguarda la provenienza di ciò che è stato trovato non è ad oggi possibile stabilire se appastenga con sicurezza ad un cellulare quindi personalmente non capisco come sia possibile affermare con cestezza che questo circuito stampato ritrovato non possa ritenersi un reperto di valenza investigativa bisognerà attendere un accertamento tecnico specifico ovviamente occorre altresì una nuova ispezione all'autovettura più peculiare all'interno della stessa autovettura quindi una risposta ecco sostanzialmente della dottoressa Claudia Sastori che giustamente è un po' disentita perché è stata messa in dubbio che questi ritrovamenti possono essere significativi o meno questo non è possibile dire una cosa del genere non è possibile perché ci sono persone che si stanno spendendo molto alla ricerca di particolari alla ricerca della verità e non è non è corretto appunto cercare di disminuire questo enorme grande lavoro fatto anche in questo periodo estivo ma ma anche Nicolas replica a mezzo stampa replica insomma all'attacco subito insomma a tutto quello che è stato dichiarato è stato scritto e respinge fermamente Nicolás respinge fermamente l'idea che egli possa difendere qualcuno dice chiedo semplicemente chiarezza perché non posso permettermi di andare ad un processo contro una persona sulla quale non ci sono prove concrete dopo nove mesi certamente ciò che sta emergendo anche gli ultimi elementi come l'uso della benzina il probabile uso di un lungo coltello come abbiamo detto l'altro giorno certamente non propende non mette elementi di accusa contro questo tunisino purtroppo sono dati oggettivi poi riguardo al fatto che come si è come si è detto la benzina si è insinuato che Galulo potesse averla presa dalla stessa auto di Alice Nicolás ha voluto precisare quest'altro aspetto dice la questione di aver prelevato benzina è assolutamente basata su teoremi e astrazione senza conoscere gli usi e costumi della vittima io sono l'unico che può dare un contributo perché so queste cose e lei cioè Alice girava costantemente con la spia della riserva accesa e faceva massimo 10 euro ogni settimana poi soprattutto ipotizzare di aprire da sotto un serbatoio di notte per tirare fuori uno o due litri di benzina è follia primo perché servono dati cioè doti scusate doti meccaniche e soprattutto attrezzi non bastano le mani e poi non ci sarebbe mai stata la benzina sufficiente poi riguarda le cose più delicate cioè le accuse e le gravi parole diciamo della suocera contro di lui dice dice sono sconvolto circa le parole usate contro di me e del fatto che le persone che dovrebbero desiderare più di ogni altra cosa la verità su quanto è accaduto si limitano ad annuire ed accettare una verità approssimativa visto e considerato che le indagini dice sono state palesemente fatte male e il legale della famiglia di origine non si è mai degnato di chiedere un ulteriore accertamento o chiarimento sulla questione quindi una difesa di Nicholas fatto con il cuore preoccupato diciamo delle parole divisive attivate su di lui da parte di persone che lui non non si aspettava come come specie come quelle sulle foto tolte a voler cancellare insomma il ricordo di Alice e quindi voler avallare la figura di Nicholas non come un buon padre o un buon marito ed allora ecco che Nicholas sembra perdere la consueta calma e specifica chiaramente alcuni punti con determinazione dice non accetto che si dica che difendo qualcuno voglio solo chiarire le enormi lacune investigative per dare giustizia ad Alice poi dice nessuno si deve permettere di mettere in discussione il mio ruolo di genitore le scelte che ho fatto sono cose mie personali e nessuno si deve permettere di criticare avrei fatto uguale se Alice fosse viva e fossimo separati o divorziati poi se in questi nove mesi mia figlia è serena felice e tranquilla è solo per merito mio e di mia madre e di nessun altro so solo io quali sono i suoi bisogni poi riguarda il discorso droga il discorso droga non se lo è inventato nessuno è saltato fuori da fonti ufficiali cioè la procura stessa e i nostri accertamenti erano mirati a capire esclusivamente quale pista investigativa battere per trovare la verità non non di cesto per infancare Alice poi dice si parla da tempo di riabilitare la figura di Alice come madre moglie e donna ma i primi a giudicare Alice sono proprio loro quindi la sua ricognato perché non accettano altro che una vita modello per cui tutto ciò che esce fuori dai loro schemi non deve esistere diciamo quindi questa in sostanza in sostanza queste sono le dure parole forti chiare che ha voluto ha voluto pronunciare Nicolás che pongono una lottura completa con la famiglia di origine della di Alice perché da un lato assistiamo alla famiglia di origine che ritiene a tutti i costi il gallulo colpevole comunque qualunque elemento esca fuori e dall'altro Nicolás i suoi legali i suoi legali consulenti e scusate se lo dico ma tanta gente di buon senso che non è né contro né a favore nessuno non ci sono schieramente ma c'è gente che pretende la verità al di là di ogni schieramento una verità che si raggiunge indagando tutti indagando tutti non escludendo nessuno e non ha senso unico diciamo sul tunisino che sembra più un capo espiatorio che un vero e proprio colpevole già dichiarato tale quindi speriamo che si arrivi alla verità e che insomma gli animi vadano verso una maggiore serenità anche se non credo perché ormai si è scavato questo solco profondo fra le due parti della famiglia però ovviamente come si dice la verità ha un costo e io ho apprezzato molto devo dire la verità questa difesa accolata di Nicolans che non dice che lui è a favore o contro una persona dice che si si dà l'auspicio che le indagini possono ampliarsi in quanto come ho sostenuto pure io sul canale gli elementi anche i nuovi elementi i recenti elementi che stanno emergendo non non vanno assolutamente ad aggravare la posizione del tunisino che anzi sembra più lontano diciamo dalla scena del delitto per varie considerazioni che non sto qui a ripetere e quindi è necessario è necessario a mio avviso allargare le indagini per non rischiare di avere un delitto senza colpevole quindi questi sono gli aggiornamenti vi do appuntamento alla prossima sperando di dare delle delle buone notizie delle notizie di verità delle notizie concrete delle conferme anche riguardo a questi accertamenti tecnici che si sono fatti e che si faranno grazie e un abbraccio a tutti quanti voi che si sono che si sono